Dobbiamo convincerci sempre più, accettarci per quello che siamo e che dobbiamo ringraziare Dio per tutto ciò che abbiamo, senza mostrarci in maniera falsa, non solo di fronte a Dio, dinanzi al quale certamente non possiamo falsificare niente, Lui conosce il nostro cuore, ma certamente di fronte agli altri. La parola di Dio in sostanza ci invita ad essere autentici, il vostro parlare dirà Gesù sia sì sì, no no, non c'è bisogno di giurare per garantire la verità, ma c'è bisogno di vivere in un certo modo per garantirla. Ecco, oggi soprattutto viviamo molto in una società che cura molto l'immagine, che cura molto il modo di apparire, Ecco, non lasciamoci trasportare da questa moda, ma ascoltiamo le parole di Gesù per essere non ipocriti, ma persone autentiche e sincere. Sia lodato Gesù Cristo! Sia lodato Gesù Cristo!